ciao benvenuti a una nuova puntata delle fantamagus week news io sono davide da la sede di fantamagus milano in collegamento con me c'è andrea di fantamagus certosa ciao a tutti ragazzi sempre a milano non certosa di pavia dall'altra parte invece abbiamo max del fantamagus monza ciao a tutti ciao max ciao andrea bene allora questa settimana incominciamo comincio io a parlarvi delle novità anche se come la puntata precedente non è proprio una novità però abbiamo voluto introdurre una serie di giochi nuovi per famiglie all'interno dei nostri punti vendita anche perché abbiamo ritenuto che fosse anche il momento giusto visto un po la situazione purtroppo per giocare un po di più in famiglia visto che non possiamo vedere magari i nostri amici e quindi diciamo diventa l'occasione per giocare anche con i nostri bimbi quindi vi vogliamo presentare un gioco che si chiama lo chef delle nuvole la ricetta del bel tempo è un gioco della aba dai quattro anni in su della durata di circa dieci minuti e va da uno a quattro giocatori allora innanzitutto è un gioco cooperativo in breve cos'è un gioco cooperativo è quel gioco dove sostanzialmente tutti i giocatori hanno un obiettivo in comune o vincono o perdono tutti quanti insieme quindi è anche un'occasione per giocare con i bambini e quindi fare un po gioco di squadra e quindi anche un attimino non c'è quel fatto che comunque col bambino magari si vince o si fa finta magari a volte di perdere per dare soddisfazione in questo caso non c'è bene andiamo direttamente al gioco allora lo chef delle nuvole qual è la storia dello chef delle nuvole allora c'è questa cornacchia questo chef delle nuvole che sono tutti i giorni devono preparare delle ricette con diversi ingredienti per creare il più bel tempo possibile questa è la storia ma questa volta lo chef delle nuvole prende deve andare a una festa la cornacchia ha deciso di fargli una sorpresa qual è la sorpresa vuole cucinare lei in questo gioco vediamo la casa dello chef con tutta una serie di ingredienti che sono i dischetti nascosti all'interno della casa lo chef si è allontanato qui della casa vediamo la porta la cornacchia cercherà sostanzialmente di preparare le ricette che sono rappresentate da tre carte con diversi ingredienti prima che lo chef torni quindi sostanzialmente come funziona il gioco c'è un dado e una cornacchia durante il proprio turno un giocatore lancia il dado a seconda di cosa esce accadranno determinate cose tipo escono le zampe della cornacchia a seconda del numero che esce può essere uno o due si muoverà di uno o due caselle oppure uscirà una casella bianca e quindi potrà andare su una casella bianca potrà passare attraverso un tubo oppure attenzione perché potrebbe comparire il cuoco scusate il cappello da chef e quindi si muove lo chef di una casella e quindi comincia a visionarsi sempre di più la porta e quindi dobbiamo cercare di fare in fretta in cosa consiste il gioco dobbiamo sostanzialmente ricordarci dove sono gli ingredienti quindi quando la cornacchia si muove arriva su una casella gira il dischetto se trova l'ingrediente lo posiziona se non lo trova lo lascia lì e quindi tutti quanti dovremmo ricordarci dove avevamo visto gli ingredienti altra cosa perché altrimenti il gioco sarebbe troppo facile c'è una ranocchia un po caotica se troviamo questa ranocchia ci fa invertire gli ingredienti e quindi ci manda un pochettino in confusione dovremmo avere un po più di memoria quindi il gioco prosegue in questo modo quindi se riusciamo sostanzialmente a completare le tre carte quindi le ricette quello che succede è che abbiamo vinto noi nel caso invece il nostro chef arriva fino a casa purtroppo avremo perso questo è lo chef delle nuvole la ricetta del bel tempo di abba bene a questo punto io passerei la parola direttamente ad andrea che invece ha giochi diciamo non lo vedrete in realtà ho anche un gioco per famiglie sì esatto dice no no giochi per famiglie in realtà non è vero perché so che cosa hai è un gioco che adatta a tutti mi stiamo incartando però c'è un piccolo problema non è molto cooperativo anzi è un uno contro uno cattivissimo dove bisogna cercare di surclassarsi l'uno con l'altro e si tratta di una novità di play a game ed è jurassic branch jurassic branch è il seguito diciamo così di jurassic snack allora il gioco è molto molto semplice è indicato dai sette anni in su ed è per due giocatori uno contro uno la durata è circa 15 minuti 20 minuti e il gioco è veramente molto molto facile ed è adatto veramente a tutti allora cerco di farvi vedere anche un po di componenti all'interno troverete il setup è molto facile troverete all'interno tre tabs tre tile da tre per tre spazi queste tile possono essere configurate come volete basta che ci sia uno spazio almeno che le unisce a due a due quindi fondamentalmente per le prime partite questa è la configurazione più semplice ovvero quella classica quadrato ok però possono le partite possono variare enormemente in base a come decidete di posizionare le varie tile dopodiché le squadre sono la squadra dei triceratopi blu e la squadra dei triceratopi arancioni dovranno posizionare i loro triceratopi su le varie tile seguendo delle uova le uova sono colorate del colore della squadra quindi il posizionamento praticamente è preordinato all'inizio della partita vedete che c'è all'interno anche della confezione un simpaticissimo raptor questo qui è diciamo un po l'antagonista caotico della situazione l'unica cosa è che non è presente all'inizio inizio inizio della partita all'inizio ci sono soltanto i simpatici triceratopi sì tutti gli altri spazi della scacchiera chiamiamola così del tabellone vengono riempite da questi cespugli di erba golosa ok allora iniziando dal primo giocatore che farà soltanto un'azione dopo i giocatori si alternano sempre con due azioni a testa le azioni quali sono sono molto molto semplici muovere un triceratopo il triceratopo si muove come fosse una specie di robot come fosse un robottino di rock and roll robots cioè in linea retta non può mai andare in diagonale e si ferma una volta che incontra o la fine del tabellone oppure un altro dinosauro ok oppure una dei cespugli di erba golosa se incontra naturalmente un cespuglio di erba lo mangia si sostituisce al posto del tile e si controlla che tile ha mangiato allora i tile hanno delle varie funzioni e anche dei vari punteggi vi dico quelli un pochino più importanti che sono fondamentalmente il... qui non è illustrato ma c'è il tile della nascita con un piccolo triceratopo che viene fuori dall'uovo e ti permette di schierare il dinosauro aggiuntivo che ogni squadra ha oppure di fare rientrare dei dinosauri eliminati nelle fasi successive del gioco e poi c'è il malefico cespuglio trappola ok che è allucinante perché purtroppo il dinosauro ha trovato all'interno del cespuglio invece di trovare dei frutti golosi ha trovato il raptor a quel punto il triceratopo viene sostituito con il raptor il giocatore che ce l'aveva purtroppo lo deve mettere davanti a sé ed è stato in quel momento al momento eliminato entra in gioco il raptor a quel punto tutti i giocatori una volta per turno possono muovere il raptor che è molto più agile dei nostri triceratopi si muove in tutte le direzioni praticamente può andare anche in diagonale a quel punto il raptor segue le stesse regole dei triceratopi e l'unica cosa è che se incontra un triceratopo si sostituisce a lui come posizione e il triceratopo viene in quel momento eliminato potrà tornare in gioco se il giocatore che lo controlla troverà il token con l'uovo della rinascita ogni token vale dei punti alla fine della partita quindi fondamentalmente ci si continua ad alternare con le azioni il gioco termina in due casi o quando finiscono i token cibo all'interno della scacchiera o altrimenti quando uno dei giocatori non ha più dinosauri perché magari il raptor se li è azzannati tutti a quel punto in quel caso il giocatore che non ha più dinosauri sulla plancia perde invece se non ci sono più i token all'interno della scacchiera si contano i punti e ovviamente la squadra che ha totalizzato più punti vincerà questo è il semplicissimo jurassic branch potremmo già giocarci il regolamento è praticamente questo contiene queste fantastiche miniature e poi io vi dico una cosa importantissima si può unire a jurassic snack facendo un gioco da quattro giocatori o da tre giocatori comunque apre possibilità di giocare in tre o in quattro giocatori nel caso è divertentissimo perché se si gioca in quattro giocatori sono proprio le due squadre dei dinosauri dello stesso colore più o meno affine che si affrontano in una guerra ai punti molto divertente direi e questa è la novità play a game io passerei la parola a max per le altre novità della settimana ok allora io invece ho dei titoli un po diciamo per un pubblico forse anche un po più più adulto saliamo di età abbiamo fatto la puntata salendo piano piano per faccia di età abbiamo fatto il climax praticamente no mi piace tantissimo il fatto che andrea ha passato tutta la presentazione giurassic branch cercando di evitare di dire che il tirannosauro si mangia il piccerato mi piace tantissimo il politico incorretto del si sostituisce a invece del romangia ma perché in realtà non lo fa anche nelle istruzioni c'è scritto che praticamente tipo il triceratopo è spaventatissimo e scappa e si scappa va bene va bene va bene ok va bene scappa scappa si salva scappa certo certo va bene anche perché se no entro la fine della partita avremmo tipo un 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 raptor enorme obesissimo però grazie al cerchio cioè va bene anche per i bambini e bambini è il cerchio della vita cioè max voleva anche magari con tanto di sangue tanto che c'era mi sembra giusto certo gioco per famiglie dove ci sono squartamenti qui si insegnano i fatti reali cioè c'è predatore preda vabbè allora andiamo avanti io vi parlo di un gioco invece che arriva da ravensburger che ci riporta nei magnifici anni 80 ed eccolo qua allora abbiamo vedete back to the future i giochi per noi esatto per davide no ovviamente no io non l'ho mai visto davide va bene cioè non so davide ti ricordi no? no beh io sono io io quando avevo 30 anni c'era il film muti c'era il film muti e va bene il paleozoico tipo va bene e beh dai insomma ci ha accompagnato veramente per nella nostra infanzia una grandissima trilogia ravensburger gli ha dedicato quindi un un gioco da tavolo allora di cosa si tratta? innanzitutto c'è da dire che è un gioco che va da 2 a 4 giocatori l'età consigliata è dai 10 anni in su quindi in realtà in family come poi vedremo ed è sostanzialmente un gioco totalmente collaborativo ok adesso vi dico un po' brevemente le dinamiche secondo me è molto carino perché parte dalla storia proprio dei tre film in cui praticamente diciamo lo spunto narrativo è Biff che a un certo punto durante i film ruba l'armanacco sportivo e torna indietro nel tempo per darlo a se stesso del passato per diventare ricco e cambiare sostanzialmente la storia chi non avrebbe voluto farlo? l'armanacco lì è stato nei miei sogni più proibili ovviamente c'è tra l'altro esatto c'è alla fine tutti quanti abbiamo pensato che tutto sommato Biff non era così tonto tutto sommato esatto comunque si parte da quell'idea però in questo caso Biff torna indietro nel tempo porterà l'armanacco ma non solo l'armanacco diciamo che porterà in epoche storiche diverse anche altri oggetti tipici della storia di Back to the Future e noi cosa dovremmo fare? dovremmo muoverci avanti e indietro nel tempo e cercare di porre rimedio a tutti questi oggetti che Biff ha spostato nella storia dovremmo cercare di trovarli e riportarli nel loro luogo e anno giusto, corretto possiamo settare il livello di difficoltà del gioco su diciamo più o meno difficile semplicemente a seconda del numero di oggetti che metteremo all'interno della partita da dover risistemare nella storia si può fare una partita facile in cui si usano solo due oggetti fino ad arrivare a partite di difficoltà estrema con addirittura otto oggetti eccetera quindi possiamo proprio graduare noi come vogliamo le nostre partite come funziona il gioco? adesso qua vi sto facendo spero che si veda un po' l'inquadratura della prancia come vedete la prancia è suddivisa in praticamente delle fasce delle strisce che rappresentano i diversi anni in cui si svolgono i film abbiamo quattro periodi storici diversi quindi siamo nell'ottocento, negli anni cinquanta nella contemporaneità degli anni ottanta e poi nel futuro e poi ci sono i diversi luoghi della città quindi c'è, non so, il relatore dell'orologio eccetera tutti i vari postoli dove vanno il ristorante insomma tutti i luoghi tipici della storia sempre nelle quattro diverse quindi ci sono, vedete, per colonna sono suddivise i luoghi come funziona? in ogni anno c'è una versione di Biff innanzitutto che ci romperà le scatole ogni giocatore prenderà una DeLorean ok, sceglierà da che anno partire quindi io avrò, non so, posso partire con la DeLorean nel futuro e quindi sarò giocatore rosa e un altro farà magari il giocatore azzurro e parte negli anni cinquanta e le azioni che svolgeremo praticamente lo faremo tirando i dadi ogni giocatore avrà un set di cinque dadi speciali su ogni faccia dei dadi ci sono dei simboli diversi e questi simboli ci permetteranno di spostarci avanti e indietro nel tempo per esempio con il simbolo del flusso canalizzatore all'interno della stessa epoca in luoghi diversi con la freccia c'è il simbolo del pugno che ci permette di colpire Biff e spostarlo in un luogo differente per poterci permettere di risolvere gli eventi del luogo il nostro scopo è fondamentalmente risolvere le carte evento che ogni turno verranno girate e dovremmo cercare di eliminare queste carte evento spostandoci nei luoghi dove si generano queste carte evento trovare gli oggetti e metterli nella nostra macchina ogni giocatore ne può avere due al massimo nella propria macchina e portarli nell'epoca storica nel posto giusto e così vinciamo la partita c'è una track qua sopra dei paradossi temporali che avanza ogni volta che ci succedono delle brutte cose per esempio anche quando ci incontriamo versioni diverse di noi quindi quando due DeLorean si trovano nello stesso luogo si crea un paradosso temporale quindi va bene insomma sono un sacco di meccaniche carine tipiche del film molto carino il gioco secondo me ricorda un po' per certi versi Pandemic onestamente in certe meccaniche di si girano le carte ci spostiamo per risolvere le situazioni dobbiamo collaborare eccetera è molto carino la dinamica per esempio in cui io posso lasciare un dado che magari non mi serve in questo turno lo posso lasciare in un luogo e tutti i giocatori che arrivano in quel luogo praticamente venendo in un'epoca però che sia nel futuro di quel luogo possono usarlo perché ovviamente se ti trovi nel passato nello stesso luogo quel dado non è ancora stato lasciato quindi lo puoi utilizzare solo se è stato carinissimo questo va bene insomma ha delle dinamiche molto carine insomma Max e la casa editrice è? Ravensburger come? non sento? dai la casa editrice quella è la stessa casa editrice di Erdorado dai è divertente con Max perché gli diamo tutti i giochi che ci sono più erre possibili allora meglio è andata bene con Back to the Future l'importante non era ritorno al futuro esatto infatti abbiamo detto il titolo Back to the Future dovevamo dirgli ritorno al futuro di Ravensburger esatto è vero ma tanto ci rifacciamo con il prossimo titolo invece che esce edito da Genos e si tratta di un gioco che si chiama Mariposas è un gioco che come si capisce dal nome praticamente è praticamente questo gioco sulle farfalle in particolare sulla migrazione delle farfalle che fanno dal Messico se ho capito bene negli Stati Uniti e poi ritorno cioè ogni anno queste migrano avanti e indietro tra Messico e Stati Uniti questi particolari tipi di farfalle l'autrice del gioco è la Hardgrave che per chi non magari non la conoscesse è l'autrice di Wingspan e secondo me in alcune meccaniche in questo gioco comunque alcune cose alcune cose del feeling di Wingspan tornano il gioco è molto interessante adesso cercherò di farvi vedere delle immagini c'è una prancia è un gioco fondamentalmente di movimento e set correction ok ogni giocatore è un gioco competitivo va da 2 a 5 giocatori partita sui 45 75 minuti diciamo un'oretta poi dipende un po' dal numero dei giocatori al tavolo gioco da 2 a 5 giocatori non c'è l'opzione di giocare in solitaria purtroppo è molto carino è un gioco come vi dicevo di movimento e set correct o selezionazioni diciamo che anche qui il 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 si svolge in tre grandi round che sono le tre stagioni quindi faremo primavera, estate, autunno eccetera e cosa succede? Con le nostre cartazioni determineremo i movimenti migratori delle nostre farfalle che partendo appunto dal Messico inizieremo a spostarle, ok? Le sposteremo, ci saranno cartazioni che ci permetteranno di spostare di magari una sola farfalla di più caselle o magari ci permetteranno di spostare più farfalle di meno caselle per esempio. La cosa poi importante è che quando spostiamo le farfalle su una casella la cartazione ci dirà anche che magari potremo raccogliere per esempio i fiori che si trovano su quella casella oppure ci sono caselle speciali dove si trovano il disegno del bruco che ci permetteranno di moltiplicare quindi far nascere nuove farfalle e quindi di aumentare il nostro pacco di farfalle. La cosa interessante che mi ha ricordato Wingspan è che all'inizio della partita vengono settate nei tre round, nei tre grandi round delle carte che indicano gli obiettivi per quella stagione cioè alla fine della primavera per esempio si potremmo ottenere dei punti per ogni farfalla che è riuscita a raggiungere o a superare un determinato punto della mappa quindi un determinato luogo e si trova magari su una casella rossa ok. Magari ha superato St. Louis e si trova su caselle rosse. Ogni farfalle che siamo usciti a portare in quella zona ci darà dei punti. Un gioco secondo me molto interessante, l'autrice ha fatto un piccolo capolavoro nel suo gioco precedente per cui io dargli fiducia e proverai anche questo Mariposas che sembra molto molto interessante. Non troppo difficile secondo me ma comunque con una certa profondità e strategia. Il fatto che si possano selezionare tantissimi obiettivi differenti a inizio partita renderà sempre il gioco sempre molto molto vario credo. Ok. Ho finito anche per quanto riguarda Genos. Direi che per questa settimana vi abbiamo vi abbiamo detto un po' tutte le principali uscite che avremo. Probabilmente magari ci sarà anche qualcosa altro ma a limite lo recupereremo nella puntata di settimana prossima. Per tutte le informazioni sui giochi potete consultare il sito internet www.fantamaros.com che tra l'altro come avrete notato spero abbiate notato ha una nuova grafica giusto Davide? Sì l'abbiamo rivisitato e completamente nuovo e anche più fruibile da smartphone che ormai diciamo è il device più utilizzato da tutti. Quindi potete andare a vedere tutti i dettagli su tutti i prodotti sul sito internet potete prenotarli da lì ritirarli in negozio prenotarli e farvi rispedire potete fare praticamente quello che volete trovate anche i contatti nei negozi insomma vi aspettiamo rimaniamo aperti in sicurezza potete venire a trovarci ovviamente con la vostra autocertificazione anche perché allora potete venire siamo in sicurezza vi vendiamo dei giochi sicuri vi vendiamo in modo tale che anche voi possiate stare in sicurezza nella vostra casa a giocare a giocare senza andare in giro. Adesso è il momento effettivamente di stare in casa quindi giusto per uscire dice aspetta vado lì mi compro due giochi per passare il weekend o le serate visto che altro non si può fare ma comunque insomma anzi forse è l'occasione di stare in famiglia con i vostri figli e quindi giocare appunto divertirvi stando in famiglia che a volte purtroppo quando siamo troppo presi dal lavoro siamo uno da una parte uno dall'altra non c'è mai tempo. Anche perché tanto stare in famiglia siete obbligati cioè non è che ho un'opzione non è l'occasione per stare cioè siete obbligati a starci in ogni caso in famiglia però dipende se riuscite a trovare anche qualcosa da fare insieme che non renda la convivenza troppo noiosa pallosa iniziate a tirarvi addosso cose oggetti che non è bello no mi sa che famiglia conosci tu? E a sapere poi succedono queste cose no invece fare qualcosa di costruttivo insieme è sempre sempre bello quindi giocate per non tirarvi i piatti addosso sta dicendo Massimo è un messaggio progresso è come una pubblicità progresso giocate invece che fare la guerra uccidervi, tirarvi i piatti, rompere stoviglie poi vi tocca andare anche a ricchea a comprare cose che avete rotto invece così state più in casa basta, risparmi esatto, risparmiate risparmiate bene un saluto, a settimana prossima, ciao a tutti, ciao a Davide, ciao a Andrea ciao a tutti ragazzi ciao ciao